Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Sulle primarie credo che avranno alcun effetto, penso che possono avere un effetto sul paese perché se dalla Lombardia dove mi trovo adesso a Milano faremo una manifestazione tutti e quattro i candidati insieme a Pierfrancesco Maiorino tra un paio d'ore a Lazio dove il candidato Alessio D'Amato dovessero arrivare dei risultati positivi per noi soprattutto da questa parte del paese che spesso ha anticipato Milano e la Lombardia processi politici più ampi, questo sarebbe un fatto importante. Quanto alla sovrapposizione tra il nostro congresso e le elezioni regionali in due realtà così importanti credo che sulla tempistica dei nostri congressi il Partito Democratico abbia una consulenza con il dottor Sternamore quindi non posso che rimettermi al limite di questa esperienza. Spero in futuro che faremo meglio. Adoro Cuperlo perché se li dice da solo e quindi tu poi non hai più il coraggio di infierire diciamo. Cuperlo guardi qua dita incrociate per la corsa alle primarie, comunque vada, lei rimane nel PD giusto? Grazie, grazie mille. Icman Ebimus, spero anche Optime però quello vedremo. E comunque vada, in bocca al lupo. Grazie a tutti gli ospiti pubblicità, qualche minuto torniamo. Grazie a tutti.